Il liceo artistico Anton Giulio Bragaglia di Frosinone è l'unica scuola italiana selezionata per partecipare al concorso di idee europeo per il logo ufficiale dell'Erasmus Plus. Tre i lavori selezionati, prodotti dagli studenti dell'istituto di istruzione Frosinate, che sono stati inviati al vaglio della Commissione Internazionale. È un'iniziativa di grande importanza perché permette agli studenti di questo liceo e di questo territorio di rapportarsi con il resto d'Europa. I lavori sono di grande interesse, siamo riusciti a selezionare i tre che vanno alla fine di questo mese in Polonia e credo che Frosinone non demeriterà in una competizione europea. Curare l'eccellenza significa proprio riuscire a sviluppare il talento e devo dire che veramente di ragazzi talentosi oggi ne conosciamo sempre di più nel nostro territorio. Sono 53 elaborati, quelli tra cui abbiamo dovuto valutare, insomma tutti molto creativi, ci sono delle idee eccezionali. il compromesso è stato quello di trovare un equilibrio fra l'estrema creatività dei ragazzi del liceo e un certo aplomb, una professionalità che potesse rappresentare bene un livello internazionale. Una scelta ponderata mettendo in evidenza soprattutto la rispondenza elaborato rispetto alla richiesta della traccia, le qualità tecniche che sono state espresse da ciascuno dei candidati e soprattutto quel pizzico di creatività che ci ha portato poi a giudicare in maniera positiva i vari elaborati. Abbiamo condiviso i vari lavori dei ragazzi e ci siamo trovati d'accordo in tutto e per tutto, dopodiché abbiamo compilato le schede, redatto il verbale e abbiamo completato velocemente. Ecco, questo è l'obiettivo della scuola, trovare il gifted, valutarlo, saperlo chiaramente valorizzare e finalmente evitare la fuga dei talenti perché purtroppo poi si verifica questo nel momento in cui noi andiamo a perdere questo materiale prezioso. La disegnazione di questo luogo avrà luogo in occasione del nostro prossimo meeting transnazionale ospitato da uno dei nostri paesi partner, la Prolonia, il prossimo 30 aprile. Ebbene, questo evento in realtà si colloca all'interno di un progetto europeo di più ampio respiro interculturale finalizzato a sviluppare la delicata tematica della istruzione degli studenti di talento, degli studenti cosiddetti talented and gifted, degli studenti con plus dotazione cognitiva.